E ormai dietro l'angolo, il 29 marzo, la Brexit è dunque sempre più vicina. E così, a pochi giorni dalla fatidica data prevista per l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, l'agenzia Dogane Monopoli ha organizzato l'Export Day, ovviamente con un focus proprio sulla Brexit. Noi produciamo cavi telefonici, elettrici, in fibra ottica e di vario tipo. Il mercato inglese per noi occupa circa un 20% della nostra esportazione. E per noi il discorso Brexit è da valutare bene. Un'iniziativa per fornire tutte le informazioni necessarie per affrontare l'impatto che l'uscita del Regno Unito potrebbe avere sulle transazioni commerciali, soprattutto in caso di hard Brexit, ossia un'uscita senza un accordo. I scenari possibili sono quelli che la Gran Bretagna venga considerata, appunto se non ci sarà un accordo, un paese estraneo all'Unione Europea come per esempio l'Australia o anche gli stessi Stati Uniti, e quindi con possibilità di non avvalersi più di tutta la serie di diritti e garanzie previste dalla normativa del mercato unico. E quindi per esempio appunto la Dazzi che potrebbero essere applicati sui prodotti in esportazione, formalità burocratiche ulteriori per accompagnare le merci verso la Gran Bretagna e per l'importazione. E poi tutti quelli che potrebbero essere anche i contratti che in questo momento, sto pensando ai diritti di stabilimento di imprese o libere prestazioni di servizi che non sarebbero più garantite. I flussi di merci verso la Gran Bretagna hanno un peso notevole anche nell'aretino. Le imprese della provincia hanno infatti importato nei primi nove mesi dell'anno beni per circa 236 milioni di euro, esportando per un valore pari ad oltre 402 milioni di euro. Il nostro settore di punta è senz'altro le minuterie di oro, l'argento, l'argenteria, insomma il nostro settore trainante è senz'altro questo. Abbiamo anche grosse esportazioni nel settore della moda e poi tanta parte delle merci che adesso sono abbastanza nascoste, nel senso che la Dogana ovviamente si occupa soprattutto di esportazioni e importazioni effettuate dal momento in cui la Gran Bretagna diventerà un paese terzo, emergeranno. Grazie.